Un intero campionato concentrato in un solo mese per l'Under 18 Rosini della Scuola Basket Arezzo. Domenica 9 maggio prende il via il campionato toscano silver di pallacanestro della categoria Under 18, che vedrà ai nastri di partenza anche la squadra retina allenata da Coccia Michele Roggi e che si svilupperà attraverso un totale di sei incontri sino a sabato 12 giugno. La Spa è inserita in un minigirone con San Cat Firenze, Synergy San Giovanni Valdarno e Pino Firenze, con le prime tre gare d'andata che sono previste in trasferta e con le ultime tre di ritorno che saranno ospitate tra le mura del Palace Portestra Mario D'Agata. Al termine di tutti gli incontri la migliore formazione guadagnerà l'accesso alla seconda fase per il titolo regionale. La scelta della società retina è stata quella di vivere questo campionato unendo i due gruppi dell'Under 18 e dell'Under 16 andando così a costituire una squadra particolarmente numerosa con 18 ragazzi nati tra il 2003 e il 2005 che potranno tornare in campo dopo oltre un anno di stop. Questi cestisti giocano a palla e canestro ormai da molte stagioni e sono prossimi a vivere il salto nelle categorie senior della SBA. Dunque la competizione regionale rappresenterà un bel banco di prova per valutare la crescita tecnica, tattica e caratteriale vissuta negli ultimi mesi di soli allenamenti.